Ora ci colleghiamo con una sede regionale, la sorpresa per tutti, per conoscere altri spettacoli raccontati dal collega. Ecco. Buonanotte da Piero Maenza da Catania. Alla sala Musco dello Teatro Stabile è andata in scena Sabbie mobile di Domenico Trischizza per la regia di Massimo Perrotta, con Guia Aielo, Fubbio D'Angelo, Raniela Ragonese, Roberto Andronico e Lorenza Denaro. Le musiche sono di Matteo Musumece e le scene di Giovanna Giorgiani. Guia Aielo è Daniela Rocca, l'attrice di Aceriale, ma catanese di adozione, protagonista di Divorzio all'italiana di Pietro Germi, che è interpretato da Fubbio D'Angelo. Dalla seduzione al travagliato rapporto con il regista, all'effimero successo fino alla follia, la parabola di Daniela Rocca, come una matriora che ha un momento di splendore e poi scompare tra le stelle, viene rivissuta con dolore e passione da Guia Aielo. Dimenticata dal jet set, Daniela muore in preda ai suoi fantasmi, fra i ricordi della sua sfiorita bellezza e del suo mare. Uno spettacolo intenso grazie all'Ielo e a Fubbio D'Angelo nel ruolo di Germi, che subisce il fascino e la personalità dell'attrice, fino poi alla separazione finale per i disturbi mentari di Daniela.